Violenta aggressione agli studenti del liceo Michelangelo di Firenze accaduta sabato mattina. Se ne parla naturalmente anche qui in Consiglio regionale. La condanna è di tutti ma alla fine la convergenza su un solo testo non c'è. La maggioranza approva il documento presentato dal PD e integrato da Italia Viva. Lo vota anche il Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia presenta un altro testo che viene respinto. Faremo la cronaca, ascolteremo le interviste. Una legge regionale cancella adesso l'obbligo del certificato medico per il rientro a scuola dopo la malattia. Una piccola rivoluzione che cambia una consuetudine ormai consolidata. Lo hanno già fatto però molte altre regioni e gli esperti assicurano nessun rischio per la salute pubblica. Ci sarà un elenco degli operatori economici per l'affidamento dei lavori pubblici di tutti gli enti regionali e saranno salvaguardate le esigenze sociali. Insomma ci sarà attenzione a una sorta di salario minimo garantito nei contratti pubblici. Lo stabiliscono due leggi approvate nell'ultima seduta via libera anche al bilancio dell'autorità portuale regionale. Il governo cambia le regole dei bonus edilizi, si apre il dibattito anche qui in Toscana, una delle regioni con più aziende in milico e con più partiti ancora aperte. Il Consiglio approva due documenti, uno del PD, l'altro dei Cinque Stelle. Ci sono state molte iniziative a Palazzo del Pegaso in questi giorni. Ne parleremo anche oggi. Riverremo pure le immagini dell'incontro a San Rossore con la testimone delle persecuzioni nazifasciste della dittatura argentina, Vera Vigemani Yaraci. Questi sono i giorni del primo anniversario della guerra in Ucraina, dell'attacco russo del 24 febbraio 2022 e il Palazzo del Consiglio regionale si tinge di giallo e di blu i colori. Nell'Ucraina siamo ed estremo sempre al fianco di chi ha scelto di stare dalla parte giusta della storia. Non voltiamo la testa, non dimentichiamo i nostri valori identitari, ribadiamo con forza che la Toscana è contro la guerra e la risoluzione armata dei conflitti, ha detto il presidente Mazzeo. Alla fine il Consiglio regionale condanna sì i gravi fatti accaduti davanti al liceo di Firenze sabato 18 febbraio e vota a maggioranza una mozione presentata dal PD emendata da Italia Viva e anche dai Cinque Stelle. Ma c'è anche un altro documento in discussione, lo presenta il gruppo di Fratelli d'Italia. Al voto viene respinto, è un'occasione persa, chiediamo? La violenza si condanna sempre, senza se e senza madda, a qualsiasi parte arrivi. Noi speravamo di trovare nel Partito Democratico la disponibilità a votare un atto di questo tipo. In realtà è arrivato un atto in cui addirittura laddove la magistratura, le forze dell'ordine non hanno ancora chiaro cosa sia successo, laddove ogni giorno sui giornali si reggono testimonianze e controtestimonianze. Ieri ho letto un professore che diceva una versione completamente differente da quella che era passata nei giorni precedenti. Dove non c'è ancora una certezza di cosa sia accaduto, si è voluto già dare una matrice politica a tutto e soprattutto l'atto era finalizzato a far cosa, a chiamare in causa il Governo nazionale, la polemica con Giorgia Meloni, eccetera. Quindi non c'era la volontà di fare una condanna unanime. Mi dispiace. C'era comunque nell'atto, riconosco, nell'atto del Partito di Maggioranza, oltre alle varie strumentalizzazioni, alle varie polemiche, c'era comunque la frase di condanna della violenza e per questo non ci siamo sentiti di votare contrario. A volere il dibattito erano stati soprattutto i due gruppi di maggioranza. Il PD ha presentato subito all'inizio dei lavori la propria mozione. Italia Viva e 5 Stelle l'hanno votata con degli emendamenti. Questa aggressione ha tutte le caratteristiche di un'aggressione squadristica, di stampo neofascista. Quindi noi chiediamo che ci sia la condanna da parte di tutti rispetto a questo episodio, ripeto, molto grave. Ma questo ovviamente non basta. Invitiamo la regione tutta a proseguire in quella che è un'attività di carattere culturale verso il superamento dell'intolleranza, del razzismo, dell'odio. La Toscana è una regione che ha nel suo DNA l'antifascismo, quindi credo che a maggior ragione ci debba essere, se possibile, un rafforzamento dell'attività di carattere proprio culturale. Chiediamo anche ai due ministeri, quello dell'interno e quello della pubblica istituzione, del merito di intervenire perché sia garantita l'incolumità nelle scuole. L'Italia aveva aggiunto una richiesta esplicita che è stata inserita nel documento approvato. Chiediamo al Consiglio regionale della Toscana e quindi alla regione di Toscana di prendere un impegno di costituirsi parte civile qualora venga istituito un procedimento penale. Ovviamente siamo convinti che questo avverrà. Nel contempo esprimiamo massima solidarietà ovviamente anche agli insegnanti, intervenuto, al corpo docente. Ovviamente una condanna forte e durissima nei confronti di coloro che utilizzano la violenza per imporre un'idea, sembra rimettere le lancette indietro. È una stagione che ovviamente ognuno di noi vorrebbe dimenticare. Serve usare il cervello e l'intelligenza per portare avanti le proprie idee e sicuramente non cazzotti pugni o violenza. D'accordo anche i 5 Stelle che convergono su questa mozione. Condanniamo sicuramente degli episodi di tale gravità e esortiamo tutte le forze politiche che hanno matrici particolari a fare attenzione a quelli che sono i contenuti dei propri gruppi giovanili perché siamo venuti a conoscenza che c'è stata anche una distribuzione di manifesti all'ingresso di queste scuole e che questo episodio non è l'unico perché era già avvenuto in un'altra scuola. Del rischio di strumentalizzazione parla anche la capogruppo della Lega alla fine del dibattito in aula. La Lega si astiene sul documento della maggioranza. Lo abbiamo detto in tutte le sedi e continuiamo a ribadirlo. È una ferma condanna per gli atti avvenuti davanti al liceo Michelangelo però credo che il dovere delle istituzioni sia anche quello di non alimentare questo brutto clima che si sta creando purtroppo in questi giorni dopo quel fatto, dopo anche il corteo avvenuto ieri dobbiamo avere un senso di responsabilità un senso di evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione è un fatto grave dobbiamo soltanto impegnarci affinché fatti come questi non avvengono più. Dal presidente Mazzeo era arrivata una proposta sostanzialmente accolta da tutti i gruppi l'aveva anticipata poche ore prima della manifestazione pubblica di martedì scorso. Io chiederò agli studenti, l'ho già fatto, di incontrare tutte le forze politiche e mi piacerebbe che dal Consiglio regionale, come sempre accaduto venissero parole chiare e nette di condanna. La violenza va condannata sempre, ancora di più se avviene davanti a una scuola. Proprio mentre era in corso il dibattito veniva diffusa la lettera che la preside di un altro liceo fiorentino ha indirizzato agli studenti invitandoli a non essere indifferenti alla violenza. La violenza portò anche al fascismo, ha scritto apprezzata questa lettera da molti, criticata dal ministro e il confronto politico dunque in queste ore è salito ancora di tono. Il Consiglio regionale ha deciso, non sarà più necessario il certificato medico per rientrare a scuola dopo cinque giorni di malattia ed è una vera e propria svolta. Con voto unanime i consiglieri hanno detto sì a una proposta della Giunta che ricalca quella di altre 11 regioni. Nessun rischio per la salute pubblica, dice il presidente della Commissione Sanità che poi spiega. Su questo ci sono due passaggi importanti, uno di un gruppo interministeriale fatto addirittura agli inizi degli anni 2000 e poi c'è stato un passaggio nell'organismo toscano del governo clinico nel 2020 che ha richiarito come la contagiosità di una malattia la scienza ormai ha evidenziato che c'è nella fase di incubazione e all'inizio dei sintomi non alla fine della sintomatologia e quindi il certificato dopo cinque giorni di assenza è un certificato che non ha nessuna valenza dal punto di vista della riduzione dei contagi. Si dice anche che è molto più efficace abituare i bambini a lavarsi le mani, a rieggiare le classi questi sono più metodi che davvero aiutano alla riduzione delle diffusioni delle malattie quindi non c'è nessun motivo scientifico per avere la certificazione dei cinque giorni dopo cinque giorni di assenza. Tutti d'accordo insomma e a questo punto il consigliere Ulmi che è medico oltre che vicepresidente della Commissione Sanità vorrebbe semplificare anche altro per i medici e i pediatri di famiglia. Per esempio io credo che un medico non debba fare un ambulatorio fatta di ripetizione di ricette oppure di scambio di quello che dicono gli specialisti ma debba avere un suo proprio amor, un amor proprio della professione e quindi se manda lo specialista, allo specialista poi competa quello di continuare il percorso. In fin dei conti un medico di medicina generale, ora che c'è anche la specializzazione in medicina generale credo che sia un medico a tutto tondo e non soltanto un passacarte. Un altro parere sempre positivo, quello della capogruppo del Movimento 5 Stelle. D'ora in poi i ragazzi potranno rientrare nelle scuole naturalmente in condizioni di salute ottimali e come saranno poi i genitori stessi e i medici a consigliare ma senza bisogno di un foglietto per cui alcune volte era necessario doversi recare dal medico per poter prendere proprio nei giorni in cui magari il ragazzo era ancora a casa, specialmente con i bambini più piccoli e per le famiglie anche monogenitoriali o con poco supporto era una difficoltà in più. Quindi aiutiamo le famiglie, alleggeriamo la burocrazia per i medici e secondo noi facciamo un servizio a tutta la collettività. Ci sarà un albo regionale degli operatori economici da invitare alle procedure negoziali per l'affidamento di lavori pubblici sotto la soglia comunitaria che è di circa 5,3 milioni. Si eviterà così il sorteggio, gli operatori interessati potrebbero essere 9 mila. Un'opportunità importante che va nella direzione della semplificazione e che diventa beneficio non soltanto della giunta regionale e della regione in quanto tale ma anche degli enti derivati compresi quelli del servizio sanitario regionale e anche dello stesso consiglio regionale di tutte le amministrazioni aggiudicatrici presenti nel territorio della regione toscana. Si è astenuto il Movimento 5 Stelle. Non siamo particolarmente convinti per quanto riguarda la possibile perimetrazione che è stata fatta dal Consiglio. Sicuramente possono essere un incentivo, una velocizzazione però delle volte è necessario anche che ci siano tutti i canoni e tutti i criteri. Sicuramente è qualcosa che va anche approfondito. Un'altra legge interviene invece sul salario dei lavoratori nell'ambito dei contratti pubblici. Deve essere, si legge, adeguato e attuale. Per la Presidente della Commissione, prima firmataria della legge di soli due articoli, si tratta di un grande passo in avanti. Una piccola grande novità, uno dei temi più attuali e più sentiti è quello del salario minimo garantito. E sebbene nella norma non ci sia scritto salario minimo garantito, la sostanza, il cuore di questa norma di soli due articoli, ma fondamentale, si spinge oltre e va a dare delle linee guida alla giunta della Regione Toscana parlando di salario attuale e adeguatezza. Cosa vuol dire in sostanza? Vuol dire spingersi un pochino oltre. Nel Codice degli Appalti Pubblici, quindi della Regione Toscana, ma anche di tutti gli enti che afferiscono alla stessa Regione Toscana, per esempio Estar, e quindi anche un indirizzo per i comuni, quindi tutti gli enti pubblici, è quello di andare a valutare la parte sociale che le aziende devono presentare quando si presentano a fare gli appalti. Quindi spingendoci verso quel concetto di salario minimo garantito che vuole rispettare il valore sociale del lavoratore. Il Consiglio ha anche approvato il bilancio 2020 dell'autorità portuale regionale e ha votato all'unanimità due risoluzioni della Commissione per le aree interne che riguardano le banche e i fondi europei. Ne parleremo tra sette giorni ad aprire i lavori. C'era stato il ricordo dell'ex vice sindaco di Firenze, Alberto Brasca, recentemente scomparso cordoglio anche per la morte di Carlo Barsanti, che è stato consigliere regionale nella prima legislatura. Le modifiche e la normativa sui bonus dell'edilizia fanno discutere. Il Governo per ora ha eliminato lo sconto in fattura e la cessione del credito, anche se adesso sono possibili dei correttivi. Argomento molto attuale dal PD e dal Movimento 5 Stelle, che presentano due distinti documenti, si chiede di tornare indietro. Le regioni in questo momento con la presa di posizione del Governo non possono fare nulla. È chiaro che c'è la necessità di andare ad aprire un'interlocuzione proprio con il Governo affinché possano essere individuati, nei primi provvedimenti utili da parte del Governo Meloni, provvedimenti che mettano anche in garanzia le regioni o gli enti locali affinché ci possa essere una strada percorribile. Badate, è una cosa che viene richiesta da tante imprese, ma soprattutto da tante famiglie. È stato un modo per sbloccare l'economia. I vantaggi e i numeri, lo dicono chiaramente, ci sono stati, a differenza di condoni che invece si vede approvare senza nessuna ragione dal Governo attuale. Quindi veramente questo comportamento di decidere dalla sera alla mattina di cancellare un provvedimento che ha portato un incremento notevole in posti di lavoro e in PIL ci è sembrata una cosa completamente fuori luogo. Difende la scelta del Governo il consigliere Capecchi di Fratelli d'Italia. Si continua a far finta di non capire che l'operazione di Superbonus ha generato circa 105 miliardi di crediti fiscali di cui 77 non hanno ad oggi copertura da parte dello Stato, perché il meccanismo di cessione infinita di questi crediti ha creato uno scompenso, rischia di creare uno scompenso nei conti pubblici che non può essere per esempio sanato dall'acquisto degli enti locali e delle regioni, come era stato nelle settimane scorse paventato, perché questo rischierebbe di pesare sul debito pubblico italiano. Non essendo cioè una forma di finanziamento immediatamente liquidabile, gli organismi di controllo europeo avrebbero potuto considerare l'acquisto da parte delle regioni e degli enti locali come un aumento dello stock di debito complessivo del sistema pubblico italiano, con immediate ricadute in termini negativi dal punto di vista della quotazione del Paese e naturalmente dell'appetibilità dei nostri titoli pubblici. Autonomia differenziata, il dibattito sale di tono e se ne torna a parlare anche qui in Consiglio regionale su iniziativa del Consigliere della Lega e Vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Casucci. C'è da lavorare. Sicuramente, come tutti i testi normativi, anche il disegno di legge Calderoli sarà sottoposto al vaglio del Parlamento, alla discussione, perché no, anche a eventuali possibili miglioramenti. Ma la regione toscana deve formulare al più presto una proposta concreta, altrimenti saranno soltanto parole. E credo che la Toscana possa gestire meglio che lo Stato centrale alcune materie in più rispetto a quelle che di fatto sono sempre state ipotizzate. Beni ambientali, geotermia e beni culturali. Per il Presidente Gianni la risposta la deve dare il Parlamento in TV. Commenta così. Io ritengo che debba essere molto migliorato, ha delle criticità evidenti. Il decreto che vuole essere, diciamo così, la legge quadro presentata dal Ministro Calderoli, ma sui principi dell'autonomia differenziata io mi confronto, perché ritengo che sia una strada da percorrere. Attraverso un forte ruolo delle regioni, migliora l'efficienza, i servizi, la proposizione dello Stato verso i cittadini. Torniamo a San Rossore, dove qualche giorno fa c'è stato l'incontro dei giovani della consulta degli studenti con una testimone d'eccezione. Vera Vigevani Yarach si rifugiò in Argentina per sfuggire al regime fascista. Perse la figlia, scomparsa, dessapare Siria a causa della dittatura di Buenos Aires. In memoria di suo nonno, deportato da Auschwitz, è stato piantato anche un albero e una corona è stata deposta sulla targa, che ricorda la firma delle leggi razziali. Una giornata che abbiamo voluto con forza come assemblea legislativa, per dire che la Toscana è sempre stata la parte giusta della storia. Siamo venuti qui e lo abbiamo voluto fare anche per legare. Purtroppo un fatto tragico che ha segnato la vita della nostra terra. Qui sono state firmate da Vittorio Emanuele III le leggi razziali. Oggi essere qui vuol dire anche sottolineare quanto sia stato grave quell'errore, cosa abbia prodotto. La connivenza di Vittorio Emanuele III con il regime fascista ha portato l'avvio della Shoah. Spazio ora ad alcuni dei giovani presenti. È importantissimo più che altro perché ricordare la storia non deve essere una cosa sterile, cioè non deve ridursi al semplicemente ricordare i fatti avvenuti in cronaca temporale, ma è necessario più che altro per fare esatto un esame di coscienza e comunque analizzare il presente attraverso gli eventi del passato. Talvolta si dimenticano questi eventi che sono capitati nella nostra storia. È importante capire anche le storie che hanno condizionato i nostri parenti e anche i nostri coetanei che sono stati testimoni anche loro di tragedie quali il fascismo e il nazismo che hanno condizionato fortemente le loro vite. È necessario sensibilizzare con ogni mezzo di informazione e anche non e poter far avere un senso di coscienza molto forte alla nostra generazione che molto spesso dimentica quello che è accaduto. Io penso che per quanto riguarda soprattutto la parte dell'educazione civica focalizzarsi su questo tipo di sensibilizzazione sia fondamentale e sfruttare il tempo e le ore che sono dedicate a questo tipo di progetto per intraprendere un percorso sempre più educativo e comunque formativo per quanto riguarda tutti i giovani perché sicuramente nel piano didattico generale non c'è abbastanza sensibilizzazione sotto questo punto di vista. Lo sport non è solo agonismo, ne è la prova. Qua il San Frediano Calcio, società dilettantistica che ha compiuto 100 anni di vita per questo riceve il riconoscimento del Consiglio regionale. È una cosa che ci riempie di orgoglio perché portare avanti un'associazione di volontariato con tutti i sacrifici che le famiglie e anche tutti i nostri associati fanno è un impegno molto grave, insomma è una cosa che ci impegna molto, però lo facciamo con entusiasmo. La società che opera nel comune di Cascina conta 300 atleti dai 5 anni in su, c'è anche il settore femminile, ci sono moltissime iniziative di aggregazione. Oltre al presidente e al vicepresidente del Consiglio regionale, già ascoltati nei nostri telegiornali, era presente anche la consigliera regionale del territorio. Questa è una società che fa veramente tante iniziative lodevoli proprio per quei bambini, quei ragazzi, quelle famiglie e quindi è un riconoscimento importante per loro ma è soprattutto un privilegio per chi da quel territorio vi viene poterli premiare e poter riconoscere che tante sono le associazioni sportive che svolgono la propria attività proprio in funzione del bene del territorio, del bene della gente e non soltanto per meri motivi di diverso titolo. Un'altra targa è stata assegnata all'azienda De Maggi, l'ha ricevuta Andrea Maggi, affinatore. Con la sua azienda ha ricevuto il secondo premio al mondo, pensate, per la qualità del suo formaggio. Si trattava di un gorgonzola prodotto in Piemonte ma che loro hanno affinato, migliorato. Insomma avete aggiunto un valore, chiediamo. Diciamo cerchiamo di dare importanza al tempo che è una cosa importante, è il valore più importante che abbiamo e cerchiamo appunto di farlo evolvere, affinare è portare a perfezione, quindi farlo maturare, farlo crescere, farlo evolvere affinché il consumatore possa provare delle emozioni, delle sensazioni diverse che il produttore, ovviamente il prodotto di base deve essere fatto bene e che magari riusciamo a conferire sempre caratteristiche diverse. Per tutta la Toscana siamo molto orgogliosi di essere qua a premiare, a riconoscere un modo di ringraziare un toscano, un mio concittadino, viene dalla terra di Arezzo che porta il nome della Toscana in alto nel mondo, che è riuscito a reinventare l'attività di famiglia attraverso una competenza, una capacità, una sensibilità che lo rende per noi un ambasciatore nel mondo. Prende via il progetto per i giovani fare strada, ve lo abbiamo spiegato nei nostri telegiornali venerdì prossimo faremo il punto sul rapporto tra Consiglio regionale e giovani toscani anche grazie al bando che ha avuto molto successo, Rigenerazione Toscana per oggi ci fermiamo qui, appuntamento al 3 marzo alle 21.10 dopo il Tg della Sera. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!